Ciao, sono Domenico Settembrini, amministratore e fondatore della Sebovit, una società italiana composta da un team di medici e farmacisti impegnati ormai da diversi anni nella ricerca di prodotti innovativi e naturali in campo tricologico. Dalla nostra ricerca nasce la linea ReAIR, una gamma di prodotti e trattamenti specifici per la salute e la bellezza dei capelli. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di aiutare le persone a gestire e soprattutto a risolvere i loro problemi di capelli in maniera sicura, rapida e davvero naturale. Ognuno di noi è unico e affinché un trattamento sia davvero efficace è importante intraprendere un percorso specifico e personalizzato secondo le diverse esigenze. Proprio per questo noi della Sebovit abbiamo messo a punto un servizio di consulenza telefonica gratuita gestita dal nostro team di esperti in tricologia. Individuare il problema è il primo passo verso la soluzione. prenota la tua consulenza sul sito www.reair.it